buon pomeriggio a tutti ragazzi in questo video parleremo del 48se episodio di sonic dash special 101 dal mansion buona visione a ricordate il portale di andato più grande quindi era 171 quindi ora dovremmo essere 153 ore buona visione eccoci il tira eccoci il tira sono completato alcune missioni da solo eccoci il tira ma aspettate ora credo che dovrebbe andare bene eccoci il tira 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 Siamo arrivati a nulla Dannazione Beh, facciamo qualcosa Ok, bene Tren Bami Tren Bami Tren Bami Tren Bami Tren Bami Tren Bami Ce ne mancano altri due ragi Per arrivare al livello 28 E andare all'ombra Portare i ponici all'ombra Portare i ponici all'ombra E direi che il video Ti possa condurre qui ragazzi Non c'è altro Beh ragazzi Spondo che questo video di Sonic Dash Episodio 48 Special 101 dal Mesh Facciamo correre Sonic per aumentare D-Ring E poi potenziare tutti i personaggi E poi per arrivare Per salire da Livello 25 a 26 Vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Mi raccomando Mettete un bel like Seguite su Instagram Non dimenticate di cliccare qui Per iscrivervi al canale E qui per non perdere gli altri episodi Dedicati al vostro World BN3 Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Noi ci vediamo al prossimo video